Dal 30 agosto al 6 settembre la città di Roma ospiterà a Piazza del Popolo l'esposizione itinerante European Space Expo organizzata dalla Commissione Europea con il patrocinio di Roma Capitale. L'iniziativa spiega come lo spazio nonché le attività e le applicazioni spaziali abbiano un impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini, oltre 30.000 applicazioni basate su tecnologie spaziali che possono contribuire a ottimizzare i trasporti, aumentare l'efficienza del settore agricolo e etico, proteggere l'ambiente e migliorare la nostra sicurezza. L'ingresso alla European Space Expo sarà gratuito e le informazioni verranno presentate in diverse lingue. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!